Perché l'uomo, anche il più tranquillo, si crea continuamente dei grattacapi? Il fatto sta che l'uomo ha bisogno di agitarsi, si comincia da appena nati. La vita è in movimento e anche gli astri e il mare non stanno mai fermi. Dio però ha dato all'uomo il giudizio e tocca all'uomo convertire in bene la sua facoltà di azione. Lavorare e vivere in pace con sé e con gli altri, questo può farlo chiunque, se vuole. Ma, spesso, si vuole, si vuole, ma non ci si riesce. Così recita il protagonista del romanzo La fuga in Egitto, di Grazia De Letta. E da questa riflessione, a questo bisogno costante di mutamento e di movimento, sembra fare eco un'affermazione dell'artista Maria Lai. Il viaggio è la casa, non solo la mia casa, ma quella di tutti noi. Siamo sulla terra, che gira a circa 30 chilometri al secondo, in un viaggio che è pur sempre un viaggio speciale, dove non si distingue la partenza dal ritorno. La vera nostalgia non è quella per un'isola, è l'ansia di infinito. E l'ansia di infinito pervade ogni romanzo, ogni novella di Grazia De Letta, nella cui opera ora ci inoltreremo. Perché inoltrarsi nelle pagine, nelle storie narrate da Grazia De Letta, significa intraprendere un reale viaggio nei meandri più profondi e oscuri dell'animo umano, in cui ciascuno può ritrovare se stesso, le proprie paure, i propri desideri più profondi e spesso inconfessabili, i dolori, le delusioni, le speranze, e, ritrovando se stesso, sentirsi dunque, meno solo. Grazia De Letta è stata la prima ed unica donna in Italia a ricevere, nel 1927, il premio Nobel per la letteratura, premio poi riferito all'anno 1926. Quando riceve il premio Nobel a 56 anni, un marito, due figli, ed è la scrittrice italiana più conosciuta e più tradotta in Europa, ed al contempo quella più osteggiata dalle elizie letterarie italiane dell'epoca, che ne invidiavano non soltanto la profondissima qualità delle sue pagine, ma anche e soprattutto l'originalità, l'indipendenza e la libertà della sua poetica. Libertà, da qualsiasi regola preconcetta o preimposta, vigesse allora nel mondo letterario. Ma, nonostante l'ostruzionismo senza precedenti, posto in essere nei suoi confronti, il valore universale e attuale dei suoi romanzi perdura tuttora, ed è stato riconosciuto non soltanto dal conferimento del premio Nobel per la letteratura, ma anche e soprattutto dalla motivazione per la quale lei ha ricevuto questo premio, motivazione che ha messo in luce le due qualità principali, preziose e insuperate, della sua poetica. La prima, la capacità di analizzare la psicologia umana, incanalandola nelle vicende reali, dunque della vita di tutti, è la seconda, la capacità di descrivere la natura quasi come che la natura rispecchiasse l'uomo stesso. La natura sarda diventa così emblema di natura universale, quella natura sarda che brilla di una miracolosa luce, luce che scaturiva dalle profondità della terra e che aveva un giorno riflesso davvero l'anima assetata di divinità dei suoi avi pastori e poeti. Nei suoi romanzi si individua così una tale intima connessione tra la natura e l'uomo che va al di là dell'apparente materialità della natura stessa e che grazie ad Eledda chiama un senso fisico di ricordo inafferrabile, una lieve vertigine, come un baleno sanguigno, un affiorare e subito di nuovo sommergersi di vita anteriore rimasta nel subcosciente. Dunque un rapporto fra gli aspetti psicologici più intimi dell'uomo e la natura che travalica lo spazio ed il tempo. E fra le sue parole, fra le sue descrizioni, fra le sue intuizioni si traducono gli aspetti più misteriosi del viaggio di vita e soprattutto trova voce quel senso di destino sconosciuto che accompagna la vita di ciascuno di noi. La vita segue il suo corso fluviale, inesorabile, vi sono tempi di calma e tempi torbidi a cui nulla può mettere riparo e in vano si tenta di arginarla, di opporsi anche di traverso nella corrente per impedire che altri venga travolto. Quella stessa vita che spesso, sotto l'illusione delle cose più belle e ricche, nasconde le unghie inesorabili. Chi era Grazia Deletta? Non voglio dare ulteriori dati biografici, a parte quelli brevi e notori appena citati, poiché io credo molto in un concetto espresso tempo addietro da Italo Calvino, che fra l'altro, in comune con Grazia Deletta, ha per metà l'origine sarda, già che Italo Calvino era figlio della scienziata sassarese Eva Mameli Calvino. Ecco, Italo Calvino ha osservato come in realtà di un autore contano solo le opere, quindi quando qualcuno gli chiedeva dei dati biografici, lui non ne dava, oppure li dava falsi. Ecco, già che io credo che tutto ciò che Grazia Deletta abbia voluto farci sapere di sé, sia nei suoi romanzi, prima di inoltrarci nella sua opera, vorrei leggervi quello che Grazia Deletta ha voluto raccontare esplicitamente come il suo viaggio di vita nel brevissimo discorso da lei pronunciato in occasione del conferimento del Premio Nobel per la letteratura. Dalle sue parole, lette da me, ascolteremo Grazia Deletta che presenta sé stessa al mondo intero. Sono nata in Sardegna. La mia famiglia, composta di gente savia, ma anche di violenti e di artisti primitivi, aveva autorità e aveva anche biblioteca. Ma quando cominciai a scrivere, a tredici anni, fui contrariata dai miei. Il filosofo ammonisce, se tuo figlio scrive versi, correggilo e mandalo per la strada dei monti. Se lo trovi nella poesia, la seconda volta, puniscilo ancora. Se fa per la terza volta, lascialo in pace, perché è un poeta. Senza vanità, anche a me è capitato così. Avevo un irresistibile miraggio del mondo e soprattutto di Roma. E a Roma, dopo il fulgore della giovinezza, mi costruì una casa mia dove vivo tranquilla col mio compagno di vita ad ascoltare le ardenti parole dei miei figli giovani. Ho avuto tutte le cose che una donna può chiedere al suo destino, ma grande e sopra ogni fortuna, la fede nella vita e in Dio. Ho vissuto coi venti, coi boschi, con le montagne. Ho guardato per giorni, mesi ed anni il lento svolgersi delle nuvole sul cielo sardo. Ho mille e mille volte poggiato la testa ai tronchi degli alberi, alle pietre, alle rocce, per ascoltare la voce delle foglie, ciò che dicevano gli uccelli, ciò che raccontava l'acqua corrente. Ho visto l'alba e il tramonto, il sorgere della luna nell'immensa solitudine e delle montagne. Ho ascoltato i canti, le musiche tradizionali e le fiabe e i discorsi del popolo. E così si è formata la mia arte, come una canzone o un motivo che sgorga spontaneo dalle labbra di un poeta primitivo. Grazie ad Eletta. Ora, questo libro che io ho scritto è il secondo volume di un'antologia scritta da me e pubblicata lo scorso anno dal titolo Ma io non vedevo quella luna. Il primo volume è un viaggio fra le pagine di Grazia dell'Edda diviso in sette capitoli in ciascuno dei quali io ho riassunto e commentato un suo romanzo intrecciando il mio commento alle citazioni dirette della scrittrice ed attraversando cinque temi. La giustizia, la speranza, l'amore, la volontà e infine l'essere madri, padri e figli. Questo secondo volume invece, autonomo e indipendente dal primo ma adesso conseguenziale, rappresenta un viaggio nel viaggio attraverso quattro capitoli in ciascuno dei quali io ho riassunto e commentato un romanzo di Grazia dell'Edda concernente un particolare viaggio. Il primo viaggio raccontato è il viaggio di Regina, chiamato viaggio nella cecità e nella scrittura come lente della vita. Regina viaggia ma senza riuscire a vedere la realtà quale essa è e rappresenta realmente per se stessa ed il suo viaggio si compie in una sorta di cecità morale che lei riuscirà a dissipare soltanto attraverso la scrittura. Il secondo viaggio è il viaggio di Costantino e di Giovanna chiamato viaggio di chi parte e di chi resta. Costantino e Giovanna nel loro viaggio compiuto prima fianco a fianco poi in direzioni opposte scopriranno l'importanza che spesso assumono i compagni di viaggio che la vita ci pone accanto. Il terzo viaggio è il viaggio di Gavina chiamato viaggio fra fede e religione. Per Gavina il viaggio rappresenta la salvezza il crollo del muro che separa apparenza e sostanza ed il ricongiungimento della sua anima con le profondità della fede che lei da un certo momento in poi spoglierà delle vesti della religione che ne nascondono la natura più profonda racchiudendo in sé anche ciò che viene enunciato nel romanzo La fuga in Egitto. La certezza che Dio è in noi e noi siamo in Dio e ci intendiamo nel suono stesso della nostra voce. Ed infine il viaggio di Stefano o per meglio dire l'errare di Stefano poiché errare significa viaggiare ma anche sbagliare cosa dimostrazione del fatto che l'errore è parte necessaria e imprescindibile della conoscenza e dunque della vita. L'ultimo viaggio raccontato è appunto un viaggio nell'umanità dell'errore che scopre la natura circolare insondabile e irresistibile del nostro destino. Un errore continuo come gli astri e i pianeti le stagioni e la natura stessa sempre sotto la luce attenta e spesso impercettibile della luna. Luna che curiosamente appare in tutti i romanzi di Grazia Dell'Edda prima di ogni vicenda significativa e determinante e che per Grazia Dell'Edda rappresenta la pupilla d'oro nel cielo azzurro che pare l'occhio stesso di Dio. A significare che in qualunque fase del nostro viaggio noi ci troviamo anche nel buio più intenso anche per lo sguardo più cieco vi sarà sempre una luce a rischiarare la strada finché si raggiungerà il vertice sconosciuto e atteso della nostra vita che ne rappresenta la meta. E la morte che legittima la vita è la meta che legittima il viaggio ma non potrebbe esservi morte senza vita e non potrebbe esservi meta senza viaggio. Ora io vorrei raccontarvi brevemente leggendovi in alcune parti il viaggio di Regina protagonista del romanzo Nostalgie romanzo che io ho riassunto e commentato nel primo capitolo del secondo volume dell'antologia e dunque il viaggio di Regina viaggio nella cecità e nella scrittura come lente della vita. Ora quando si intraprende un viaggio ci si muove sempre su due direzioni parallele una materiale ed una spirituale. Al percorso intrappreso attraverso luoghi noti o meno noti si accompagna sempre un inevitabile cambiamento dentro noi stessi che porta ad una consapevolezza più chiara dell'animo umano nostro e altrui e questa consapevolezza può essere felice o amara ma poco importa poiché l'arricchimento che si arrega con sé si pone inevitabilmente quale punto di partenza per un nuovo viaggio la cui meta si rivela essere sempre diversa e sconosciuta rispetto a quella che ci eravamo prefissati con tanta sicurezza in partenza. Ed è proprio ciò che accade a Regina protagonista di Nostalgie. Regina è una giovanissima sposa che appartiene ad una famiglia lombarda una famiglia nobile ma ormai povera ed è caduta. Regina si è appena trasferita a Roma a seguito del viaggio di nozze con suo marito Antonio Antonio suo marito è un uomo bello e buono non è nobile ma è borghese un semplice e umile funzionario del ministero del tesoro e soprattutto è innamorato pazzamente di sua moglie. Regina ha sempre sognato di vivere a Roma e ci si è trasferita subito dopo il matrimonio piena di amore e di grandi speranze ma la vita a Roma si rivela fin da subito essere ben diversa rispetto a quella da lei sognata nelle settimane di fidanzamento con Antonio la conoscenza reale di Roma della disparità di ricchezza dei suoi abitanti della povertà e del degrado dilagante spaventano fortemente la giovane sposa la quale ricordando i racconti dei ricchi trascorsi della sua famiglia comincia a provare delle preoccupazioni ossessive per la situazione economica sua e del marito situazione economica che non si manifesta come misera ma neppure particolarmente florida Regina inizia così a sentirsi profondamente insofferente per i desideri di ricchezza che si insinano pian piano nel suo animo e che finiscono con l'occuparne tutto il pensiero questi desideri di ricchezza si acuiscono in particolar modo durante la frequentazione della corte di una principessa russa la principessa Maculini una donna grassa deforme sorda anziana ma ricchissima per la quale Antonio ha di tanto in tanto sbrigato qualche affare questa principessa invita spesso i due sposi ai suoi ricevimenti ricevimenti frequentati dalla Roma ricca materialista e corrotta e regina pur restandone in qualche modo disgustata perché in fondo è di animo fine suo malgrado non riesce a fare a meno di sentirsi contenta ed attratta dalla frequentazione di persone così ricche ed altolocate tuttavia col passare del tempo la tristezza e la delusione e la malinconia di regina sembrano crescere giorno dopo giorno tristezza e delusione cui si unisce una insopportabile nostalgia per la sua casa familiare e a nulla valgono le cure continue la dedizione e l'amore del marito che ogni giorno cerca di rallegrarla con grande pazienza con grandi sforzi ma senza risultati nell'animo di regina la delusione per Roma si estende così piano piano anche alla sua vita matrimoniale e nei momenti di solitudine regina si lascia andare a delle penose riflessioni sono io che l'ho voluto pensava chi mi costringeva a cambiare stato a lasciare la famiglia e la patria oramai sono sola sola anche se mi lamento nessuno può comprendermi ma in fondo ho diritto io di lamentarmi no d'altronde ogni lamento è inutile quando la ragione del malessere è in noi stessi la mia anima è malata è un cespuglio strappato dal luogo ove è nato e ogni più piccolo urto la strazia perché lamentarmi con chi lamentarmi e a che serve nessuna cosa per ora può guarirmi nemmeno l'amore di Antonio la pioggia cesserà verrà il bel tempo avrò una casa tutta mia ma allora sarò contenta e chi lo sa ma del resto che importa bisogna soltanto accettare la vita come è e rassegnarsi e procurarsi di vivere soli io non capisco questa smania che tutti abbiamo della compagnia non è possibile vivere soli non è meglio quale miglior compagnia di noi stessi del resto concludeva tutto passerà dobbiamo morire regina tenta di fuggire della sua tristezza rifugiandosi nella solitudine ma in realtà anche il rifugio della solitudine si rivela essere un'illusione profondamente ingannevole Antonio per renderla felice trova un appartamentino tutto per loro perché fino a quel momento hanno vissuto nella casa familiare di lui circostanza che ha cagionato nella giovane sposa un forte senso di disagio e di fastidio Antonio dunque trova questo appartamentino tutto per loro lo arreda in segreto per farle una sorpresa e vi conduce la moglie nella speranza di vederla gioire ma regina pur fingendo gratitudine per non deludere il marito per non dargli un dispiacere si ostina a non voler essere mai contenta perché questo appartamentino le pare troppo umile e tuttavia sente l'ingiustizia del suo stato d'animo si compatisce quasi inorridisce di se stessa ma non riesce in alcun modo a dominarsi in pochi giorni si fece magra e pallida diventò irascibile e brutta qualche volta guardava Antonio con pietà beffarda le sembrava che non vi fosse cosa più commiserevole e ridicola di un bel giovine elegante che si rimorchiava dietro una piccola moglie brutta quanto ad Antonio dopo tanto amore e tanti sforzi comincia anche lui a perdere la pazienza provata fino a quel momento e comincia a dubitare del reale amore di lei e l'accusa di essersi pentita di averlo sposato e di non amarlo più anche regina si interroga sul suo amore a volte le sembra di non amare più Antonio altre volte invece si intenerisce pensando a lui e proprio nei momenti di tenerezza si propone di cambiare di migliorare di rassegnarsi rassegnarsi ciò era possibile in teoria in pratica i nervi si ribellavano fieramente contro la realtà ma un giorno quasi improvvisamente si insinua nel suo animo un desiderio il desiderio di migliorare se stessa attraverso il lavoro ed il lavoro che regina vede come un miraggio e dal contempo come l'unica forma possibile di espressione della sua anima è la scrittura e un felice proposito ne nasce in cuore il proposito di lavorare per diventare scrittrice e attraverso la scrittura imparare a conoscere la vita e finalmente anche ad amarla uscirò uscirò dalla cerchia che mi stringe guarderò la vita in viso voglio smarrirmi nelle grandi vie di Roma sentire l'anima della folla descrivere la vita dei poveri o di coloro che si annoiano o di quelli che sembrano felici e non lo sono la vita come è l'idea di poter tradurre in parole scritte la realtà circostante la riempie finalmente di buoni sentimenti eppure nonostante questa sua luminosa risoluzione regina non riesce a restare ferma nel suo proposito e nei ricchi ricevimenti della principessa Maculini l'anziana e grassa e sorda principessa regina senti una profonda umiliazione dei suoi abiti modesti della sua condizione modesta dell'assenza di ricchezza che si scontra con le mollezze delle persone che frequenta finché passato un anno è arrivata l'estate mentre in procinto di partire per la Lombardia da sola per andare a trovare la sua famiglia in attesa che Antonio la possa raggiungere per trascorrere assieme qualche giorno di vacanza regina prende una decisione segreta nella disperazione ha scritto una lettera ad Antonio nella quale gli propone una separazione momentanea di un paio d'anni durante i quali lei vorrebbe tornare nella sua casa familiare di cui ha grande nostalgia in attesa che egli possa lavorare guadagnare maggiormente e migliorare così la loro condizione economica ha scritto questa lettera in segreto fra le lacrime e li ha lasciata in salotto in maniera tale che egli tornato dalla stazione dopo averla accompagnata la possa leggere in solitudine e così regina parte consapevole che mentre lei sta percorrendo a ritroso quel suo primo viaggio di nozze convinta di ritrovare la felicità a casa propria Antonio è probabilmente già tornato a casa e sbalordito tiene in mano quella lettera bagnata di lacrime si arriva così alla seconda parte del romanzo regina è arrivata al suo paese convinta di ritrovarvi i sogni del passato ed una rinnovata serenità ma una cosa strana avveniva in lei ora che ella era giunta che era nel luogo della sua nostalgia nel rifugio sognato l'anima le sfuggiva ancora come un tempo le era parso di portare a Roma solo la sua persona e di aver lasciato sull'argine l'anima sua simile a una lucciola errante ora le sembrava di aver riportato sull'argine solo il suo corpo stanco e sofferente l'anima volava via se ne andava a Roma che faceva Antonio a quell'ora soffriva molto sentiva egli l'anima di sua moglie stringerlo tenacemente più che non lo avessero mai stretto le sue braccia lacrime ardenti le salivano agli occhi era allora che improvvisamente taceva col pensiero smarrito in una lontananza triste e così appena arrivata regina si pente ferocemente della sua lettera del suo comportamento si rimprovera della leggerezza con la quale è fuggita da quel mondo si rimprovera di non aver capito che tutto ciò che per lei conta realmente è solo e soltanto l'amore del marito di cui ora ha un astruggente e insopportabile nostalgia chi lo sapeva? sappiamo noi ciò che penseremo e sentiremo domani? l'anima nostra è così piena di strane incoerenze e di contraddizioni chi diceva che il vero carattere dell'uomo è la contraddizione? certo molte delle nostre sventure provengono dai puntidi dall'orgoglio di non volerci contraddire come dovremmo e come spesso vorremmo ma come sono mutata se leggiamo in un romanzo questi misteriosi rapidi cambiamenti di spirito ci sembrano inverosini eppure sono così veri che cosa strana è l'anima nostra regina scrive così numerose lettere al marito implorando il suo perdono e chiedendogli di raggiungerla e Antonio dopo giorni di tormentato e preoccupante silenzio le risponde finalmente con un telegramma che annuncia il suo arrivo regina aspetta piena di amore e di buoni propositi con tenerezza suave ricordava gli occhi la bocca le mani di Antonio suo 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 l'uomo giovane amante suo anima e corpo ed ella non aveva mai capito questa grande questa unica felicità la regina ora non importa più nulla della ricchezza poiché l'unica sua gioia è potersi ricongiungere col marito e proseguire così la vita di un tempo Antonio arriva la notte era buia calda ed umida dopo aver chiacchierato di cose indifferenti Antonio e Regina tacevano quasi vinti dal silenzio della pianura e della notte tacevano ma Regina parlava con se stessa come le accadeva spesso Antonio è mutato no questa volta io davvero non mi inganno egli è mutato appena sceso dal treno mi ha abbracciato quasi freneticamente pareva avesse avuto paura di non ritrovarmi più ma poi ha cambiato aspetto c'è qualcosa di tetro e di diffidente nei suoi occhi non ha più fede in me qualche cosa ci divide ora ma del resto doveva essere così e domani tutto sarà passato però il cuore le batteva un po' troppo forte Regina sente Antonio distante cerca di mostrargli il suo affetto cerca di distrarlo cerca di attirarlo a sé inutilmente finché colta da disperazione gli chiede la ragione della sua freddezza e me lo domandi egli mormorò senza voltarsi era appena un soffio la sua voce ma un soffio dove Regina sentì imperversare un uragano di rancore tu non mi vuoi perdonare disse staccandosi da lui ma egli si era già voltato e la stringeva nuovamente a sé baciandola con un impeto che a Regina pareva più che di passione di disperazione e il cuore le batteva forte e forte ma fra i suoi rintocchi di gioia vi erano vibrazioni di dolore Regina si accorgeva di una cosa misteriosa un tempo era l'anima sua che sfuggiva a quella di Antonio frapponendo fra loro tutto un mondo di piccolezze di vanità di desideri e di ambizioni ora invece era l'anima di lui che spinta da una forza occulta si allontanava da lei Antonio parla a Regina e le chiede chiaramente e risolutamente quali siano le sue intenzioni Regina ribadisce la volontà di tornare a Roma insieme a lui e di dimenticare quello che la stessa definisce come un capriccio un errore di giovinezza Antonio tuttavia dimostra di aver preso ben sul serio i malesseri manifestati da Regina nella dolorosa lettera lasciata prima della sua partenza e racconta alla moglie quali siano state le sue risoluzioni nei giorni della loro lontananza egli è riuscito a far sì che la principessa Maculina la principessa anziana e sorda e grassa ma ricchissima lo abbia incaricato di giocare in borsa per suo conto e di occuparsi di alcuni suoi affari amministrativi e contabili dietro una paga cospicua che permetterà loro di avere una casa più grande magari due salotti ma questo racconto da a Regina un vago malessere che la porta ad ascoltare con un sentimento che non era di gioia due salotti sì ella capiva la preoccupazione di lui egli voleva darle qualche cosa di quanto ella aveva stoltamente sognato e più stoltamente ancora chiesto voleva darle almeno una illusione di signorilità di benessere di vita elegante e le faceva la sua offerta quasi umilmente pareva egli il colpevole pronto a tutte le debolezze pur di essere perdonato ella avrebbe preferito un colloquio tragico di rimproveri e poi dolce di perdono un uragano che lasciasse loro il cielo domestico più puro di prima camminavano sempre riavvicinandosi al villino così attratti dal loro colloquio meschino che non si accorgevano più del mistero della notte calda e dolce del paesaggio attraversato dal fiume incolore dell'orizzonte scuro sul quale il bosco si profilava immobile e nero come un basso rilievo di bronzo nell'aria scura tiepida e molle come un velluto alleggiava l'incanto di un sogno di dolcezza di volutà ma i due giovani sposi non sentivano più quell'incanto Antonio tutto infervorato nei suoi piccoli progetti per l'avvenire regina vinta da un senso di pietà per l'uomo così meschinamente così profondamente mutato sotto questi misteriosi auspici e sotto la cupola di una nuova ricchezza materiale ricomincia così la vita dei due sposi a Roma vita arricchita dopo alcuni mesi dalla compagnia di una giovane una ragazza compaesana di regina ma poverissima che è giunta a Roma per studiare al magistero diventare insegnante e soprattutto diventare scrittrice questa giovane si chiama Gabri e regina in qualche modo la ammira e dal contempo la invidia ne invidia la determinazione la forza il desiderio di perseguire il suo scopo e di affrontare tutti i sacrifici della povertà pur di ottenerlo regina porta spesso Gabri nel salotto della principessa Maculini e Gabri osserva tutto con attenzione e silenzio provando tuttavia disgusto alla vista della principessa grassa pallida cascante che pareva una di quelle tante vecchie dame medievali la cui bruttezza è immortalata dai grandi pittori dell'epoca solo gli occhi vivevano nel suo viso di cadavere gonfio si arriva così alla terza ed ultima parte del romanzo passano i giorni passano i mesi regina è finalmente felice e serena sia per la loro nuova florida condizione economica sia soprattutto per essere diventata madre di una bambina eppure qualche volta ella aveva paura la sua felicità le pareva un'illusione Antonio lavora lacrimente e incessantemente uscendo presto la mattina e rincasando tardi la sera ma guadagnando intensamente per la moglie e per la figlia che gli ama profondamente e così la vita coniugale scorreva limpida e tranquilla come un ruscello limpido e tranquillo e i momenti di tenerezza fra gli sposi sono traboccanti di sentimento un mattino Antonio si avvicinò a regina e l'abbracciò rannicchiandosi tutto contro di lei come un bambino ella lo baciò sulla fronte liscia e sentendolo così tutto suo dolce e tenero così giovane così bello così confidente ne provò una tenerezza intensa che rasentava la sofferenza proprio quel mattino regina comunica al marito che intende andare a trovare Gabri la quale è malata da tre giorni regina esce di casa si incammina e giunge al palazzo poverissimo nel quale vive Gabri e in questo quadro di estrema povertà ed esolazione regina ha improvvisamente consapevolezza della sua fortuna materiale e provava una strana impressione di piacere nel sentire la sua sottana di taffetta verde frusciare nel silenzio della scala ella non pensava alla sua sottana di seta come in quel momento non ricordava precisamente il benessere della sua vita le poche scale bene illuminate della sua abitazione i suoi due salotti i libretti della cassa di risparmio ma la certezza del possesso di tutte queste cose le rallegrava il cuore e la rendeva un po' sentimentale regina bussa e le apre la padrona di casa Gabri non c'è è uscita per imbucare una lettera sta per tornare regina viene fatta accomodare nella sua camera e guardandosi attorno percepisce quella che deve essere la reale felicità della giovane il suo sogno di diventare scrittrice perseguito nonostante la sua povertà sogno che invece regina ha trascurato e dimenticato tutta presa dal suo nuovo benessere economico in quanto guardandosi attorno regina trova un quadernetto di Gabri lo apre e vi scorge al suo interno alcune descrizioni che Gabri ha scritto per esercizio e in queste descrizioni senza nome regina riconosce dapprima se stessa giovane signora miope bruna tutta bocca e tutta occhi intelligentissima un po' strana un po' enigmatica nobile decaduta finge di non pensare al colore azzurro del suo sangue e forse non ci pensa davvero ma il suo sangue è azzurro ed ella lo sente e vuole essere aristocratica ama il lusso la gente ricca ha sposato un marito povero ed è riuscita a fargli guadagnare molto regina rimane fortemente sorpresa dall'acutezza psicologica dimostrata da Gabri in questa descrizione va avanti nella lettura e in un'altra descrizione trova la principessa Maculina una dama straniera ricca alta e grassa capelli nerissimi tinti due grosse labbra di un lividore pallido piccoli occhi vivi e misteriosi come gli occhi di un gatto cattivo non ride mai più vecchia che giovane è sorda tipo di donna sensuale ha un amante giovane e infine regina individua e riconosce la descrizione di suo marito impiegato segretario di una vecchia principessa è giovane biondo molto bello alto svelto lunghi occhi affascinanti bocca fresca così rossa che sembra tinta carattere allegro e buono innamoratissimo della moglie tuttavia è amante della principessa una volta regina aveva sognato un'eclisse di solo in quel momento nel leggere la paginetta di Gabri e la ricordò quel sogno perché si riprodusse in lei la stessa impressione di crepuscolo pauroso di silenzio terribile e di aspettazione regina fugge quasi dalla casetta prima che Gabri ritorni con un terrore cieco dovuto alla scoperta appena fatta al di là dei primi orrendi dubbi regina sente che quanto le ha rivelato improvvisamente quasi per scherzo quella paginetta è la verità Antonio si è venduto alla lurida la scivia della principessa per potersi arricchire e per donare quella ricchezza proprio a lei a sua moglie il suo primo istinto è di rabbia e di rimprovero verso quello che lei considera il peggior tradimento del marito ma in fondo sentiva che le sue recriminazioni erano vane e sciocche ben altre parole di verità le risuonavano in fondo al cuore travolgendolo in un turbine minaccioso quasi in una disperazione di morte era lei l'essere debole e vile lei che non aveva capito la serietà e la fatalità della vita ed ora la vita la schiaffeggiava come una bambina cattiva che ella era stata ed ella era stata più cieca di un cieco ella non aveva veduto forse perché non aveva mai dubitato e non si era mai guardata attorno lei era fuggita rimproverandogli la sua povertà ed egli cieco umiliato e vinto si era venduto ed il ricordo più insistente di regina quello che meglio le rivelava l'orrore del fatto compiuto era appunto l'arrivo di Antonio a Casal Maggiore il viaggio lungo l'argine l'impressione strana da lei provata nel rivedere il marito tuttora le appariva chiaro ecco perché egli era mutato ecco perché i suoi baci erano disperati quasi crudeli egli tornava a lei contaminato fremente di angoscia come una fanciulla che si è appena venduta a un lurido vecchione egli l'aveva baciata così per amore e per vendetta per contaminarla dell'infamia che ella gli faceva commettere e per dimenticare la stessa infamia regina si dirige verso casa la sua sottana frusciava sussurrava ed ella provava una lieve irritazione nel sentire quel sospiro di seta che la circondava e la seguiva passano alcuni giorni durante i quali regina ripresa dai dubbi nel tentativo di scoprire la verità tace al marito i suoi sospetti e prende ad osservarlo silenziosamente finché dopo giorni di cupo tormento regina comprende che è giunta l'ora del chiarimento e durante una passeggiata gli disse tutto con parole brevi e calme parlava piano pareva lei la colpevole ma una colpevole dignitosa pronta al castigo parlò del suo dubbio com'era cresciuto e divampato ripetei improveri che si era rivolta le visioni il delirio maligno i sospetti il sogno il presentimento il proposito del perdono intanto il sole tramontava il fiume si divideva ora in due zone una d'argento violaceo sotto il cielo pallido dell'oriente l'altra cremisi sotto l'ovest acceso ma nel cielo e nell'acqua pareva finita ogni lotta fra le luci e i colori tutto si univa e si fondeva in una suprema armonia di pace l'ombra cercava ancora la luce e questa si ritirava lentamente verso una misteriosa lontananza al di là oltre l'orizzonte dove non arriva lo sguardo umano Antonio nega con forza con sdegno con rabbia tenta in ogni modo di dissuadere la moglie dai suoi dubbi ma regina si fece forza vinse se stessa guardami gli impose Antonio la guardò egli aveva gli occhi velati di lacrime dunque era vero egli era colpevole la verità è emersa fra loro nel dolore ma ad essa consegue la saggezza dolorosa anch'essa la determinazione di regina è forte ed univoca perdonare dunque perdonare più che mai passare taciti simili all'acqua di un fiume verso la luce di un orizzonte oltre il terreno verso il mare della carità infinita dove il più grande degli errori umani non è che il ricordo di una scintilla spenta finisce così il viaggio di regina con l'inizio di un nuovo cammino da percorrere sotto diversi auspici e l'amore e l'errore sono l'epicentro degli altri viaggi narrati amore che nella sua ipotizzata etimologia significa assenza di morte ed errare che come detto al principio significa viaggiare e sbagliare amore ed errore così raramente disgiunti già che l'errore è la chiave di volta che ci permette di comprendere meglio noi e gli altri e in particolare i nostri veri sentimenti e quelli del prossimo ossia dei nostri cari e soprattutto della persona amata l'amore che per grazia dell'Edda è il solo che concede il dono dell'eternità e che spesso ci salva anche da noi stessi così accade a Stefano protagonista dell'ultimo viaggio narrato vittima come regina di se stesso Stefano è ad un momento particolare del suo viaggio si trova solo in treno d'inverno solo triste e disilluso vede la natura rispecchiare i suoi sentimenti chi parlava nella triste tranquilla luce delle nevi nell'immensa solitudine dei cieli e delle montagne lontane una voce muta triste parlava la vanità della vita l'impotenza dei sogni parlavano i cari morti e sorgevano le memorie dei dolori trascorsi delle perdute illusioni di ciò che non torna di ciò che passa per non tornare mai più il piccolo treno si fermò un poco nella livida stazione del prato di San Michele Stefano non si mosse quanto vi era di tristezza di dolore di desolazione nella vita pareva di lagasse sul cielo di quella sera invernale e nel cuore dell'unico viaggiatore di prima classe eppure come sotto le nevi nella indicibile desolazione della pianura germinavano i grani le erbe e i fiori nel cuore sepolto da tristi sogni inconsciamente spuntava una speranza salvatrice ed è proprio questa la speranza con la quale io ora vi lascio la speranza che è l'essenza del viaggio cioè l'assenza di immobilità il rinascere costante della fede e della scintilla d'amore che non è il nostro potere spegnere che nasce dagli incantesimi della fanciullezza che vivono e perdurano in noi fino all'ultimo nostro respiro e che nel ricordo danno un'idea di quello che debba essere un giorno per l'anima che ci crede e lo aspetta in ricompensa degli innumerevoli disinganni della vita il regno di Dio sulla terra grazie grazie a tutti